Non c'è solo il sud, i rifiuti smaltiti in modo illegale avvelerano anche il nord, anzi qui a Settentrione il sistema è stato creato e messo a punto. Qui siamo all'aeroporto di Venezia Marco Polo, è il parcheggio numero 5 ed è famoso perché su che cosa è stato costruito Paolo Coltro? E' stato costruito con il Rilcem, ma il Rilcem è solo un nome, cemento, un nuovo tipo di cemento doveva essere, invece è un miscuglio di cemento e rifiuti. Qui sotto sono tantissimi, rifiuti non trattati, esattamente 4154 tonnellate. Chi è che ha fatto tutto ciò? La ditta era la Mestrinaro ed aveva avuto appunto il compito, l'appalto, di fornire questo materiale per i parcheggi dell'aeroporto, ma non solo. Lungo la A4, la terza corsia da Venezia verso Trieste, la stessa ditta ha fornito 40.000 tonnellate di questo materiale. Che tipo di rifiuti sono? Ma rifiuti tossici e pericolosi, come tra l'altro hanno appurato le analisi e anche la procura che ha mandato sotto processo questa Mestrinaro. La stessa società che gestisce l'aeroporto Marco Polo di Venezia, la SAVE, è parte civile nel processo e fa sapere che ha condotto ricerche dispendiose e che non c'è pericolo per la salute di chiusa questo parcheggio. Ma perché, nonostante le inchieste, nonostante i processi, ancora questo business dell'immondizia continua a essere così florido? Perché i profitti sono altissimi. Sarebbero comunque considerevoli facendo le cose in modo assolutamente illegale, ma sono cento volte di più probabilmente facendolo in modo illegale. Nel tuo libro, Oltre Gomorra e i rifiuti d'Italia, edito per cento autori, dove raccogli le testimonianze del pentito di Caborra Anunzio Perrella, tu dici una cosa. Dietro ad ogni rifiuto, smaltito illegalmente, ci sono dei politici, degli amministratori con l'immense? Sì, perché il sistema di rifiuti dovrebbe prevedere delle autorizzazioni, poi dei controlli e tutta una serie di atti anche amministrativi, no? E di documenti, dai documenti di identità del rifiuto, i documenti di viaggio, le bolle, dei vari passaggi. È in questa trafila che si annida la possibilità dell'illegalità. Nel dossier della Commissione bicammerale dei rifiuti, lo sguardo sul Veneto è uno sguardo allarmante, è molto inquinato? Sì, il Veneto è molto inquinato. La Commissione ci riporta una situazione sparpagliata di problematiche di inquinamento, sia di scariche, di scariche abusive, sia da situazioni di non bonifica del territorio dopo impianti industriali che hanno prodotto negli anni molto inquinamento, sia di inquinamento di acque e delle falde, cosa molto molto importante perché poi si riversa sull'agricoltura e ovviamente su quello che noi mangiamo nei nostri piatti. Chi bonifica tutto questo? Questo ce lo chiediamo anche noi. Chi bonifica chi inquina? Secondo noi la nuova legge sugli ecoreati lo dice chiaro e tondo. Purtroppo per quello che riguarda il passato c'è da capire chi deve intervenire. È evidente che bisogna ripartire con le bonifiche anche dell'ente pubblico, ma i privati in questo devono impegnarsi perché hanno inquinato abbondantemente negli anni. Quindi la terra dei fuochi non è solo a sud? L'Italia ha scoperto la terra dei fuochi come un pugno nello stomaco, ma è solo l'ultimo degli episodi, il più eclatante, è l'ultimo dei luoghi. La terra dei fuochi è diventata tale perché il nord era già riempito, letteralmente riempito di rifiuti. Per questo i rifiuti sono emigrati dal nord al sud.